La lezione di breakdance è riuscita a riportare l'allegria tra i ragazzi. Ormai è sera e in sala relax si vede un programma che farà tendenza. Questa sera abbiamo una serata a tutto volume. The voice! Mr. Fantasy! Cosa è Mr. Fantasy? Mr. Fantasy, musica da vedere. Benvenuti nello studio della rete 1 del martedì sera, lo studio della musica da vedere. Ma il sottotitolo fu più azzeccato di quello. Il programma infatti fu uno dei primi al mondo a mandare in onda videoclip musicali. Quando debuttò la trasmissione condotta ideata dal mitico Carlo Massarini, in America MTV doveva ancora nascere. Io, come tutti i miei coetanei, ero sbalordita. Non mi perdevo neanche una puntata. Che compagnia che ci faceva Mr. Fantasy! Fu bellissimo vivere la musica in tv. Quanto dura? Vedrà che si appassiona. No! Ma non le conoscete queste canzoni? Sì! Fortunatamente no! No? Stasera ho fatto più attenzione a Martina che a Mr. Fantasy, vai! E lui ti piace? No! È bella, è alta quanto a me, quindi che lo va bene. Prova a guardare. C'è delle belle curve, diciamo, e è una bella ragazza. Perché non tocchi la mia di faccia? Perché mi fa schifo, io a lui li voglio bene. Mr. Fantasy non va più in onda e nessuno ne sente la mancanza. È finito, basta. Grazie! Grazie.